Ora è di mercato per la Virtus. È arrivato in maglia rosso-nera Elio De Silvestro, attaccante esterno di 22 anni, di proprietà della Juventus, che nel giornale di andata ha collezionato una presenza con la capolista Carpi. Il giocatore andrà a rinforzare il reparto, come chiesto dal tecnico d'Aversa, ma probabilmente non sarà l'unico. Il DS Leone sta infatti sondando il terreno anche per Dudu Magni, classe 93, attaccante italo-senegalese in forza latina, ma di proprietà dell'Atalanta, una punta centrale che però può svariare su tutto il reparto. Nell'operazione rientra la cessione del portiere Branescu, che torna alla Juventus per essere girato in un campionato estero, quello ungherese o in Lega Pro. Il radiomercato infine segnala che la Virtus stia seguendo un altro portiere, Luca Maniero, classe 95, che gioca nel Pordenone, ma è di proprietà del Padova. L'attaccante rosso-nero De Vita invece dovrebbe andare al Monza. Per il resto, con ancora negli occhi lo spettacolare Tris rifilato al Catania, la Virtus riprende ad allenarsi per preparare la sfida di domenica a Modena. In una gara in programma alle 12.30 per la trasferta in terra emiliana, all'assenza di pagare infortunato e Bacinovic, espulso sabato e dunque squalificato dal giudice sportivo, il tecnico d'Aversa ha due opzioni, spostare Di Cecco in mezzo al campo o, più realisticamente, utilizzare Agazzi, come è accaduto nella gara col Bologna, con Grossi che andrebbe a completare il reparto. Quest'ultimo, oltre ad aver segnato il terzo gol contro gli Etnei, sta vivendo un ottimo periodo. Era importante vincere, era importante partire col piede giusto, eravamo contro una squadra che aveva tanti punti interrogativi, avevamo cambiato tanti giocatori, era la prima con un allenatore nuovo, quindi bisognava portare particolarmente tanta attenzione e sono veramente contento perché abbiamo portato a casa un ottimo risultato. Ora sto avendo un po' di continuità e a me mi aiuta tanto perché ho bisogno del ritmo partito, ho bisogno tanto di questo, quindi ora sono stato zitto nei primi mesi che non giocavo mai, ora mi guardo questi momenti. Il tuo primo gol, il secondo? Il secondo, il secondo. C'è una dedica? La dedica, la dedica a tutte le persone come sempre che mi stanno vicino anche quando sto a due o tre mesi in panchina. L'ultima sul prossimo avversario, anche se ancora dovete prepararlo per tutta la settimana, si giocherà in posticipo a mezzogiorno e trenta, un orario insolito, a Modena. Che tipo di gara? Voi giocherete sempre con lo stesso spirito? Sì, sì, noi, il mister ce lo dice sempre, non bisogna prescindere dal nostro spirito, che deve essere lo spirito di squadra, di gruppo, che si deve lottare su ogni pallone, quindi quello sicuramente non mancherà neanche a Modena.